Allora eccoci qui con De Felice, il portierone dei Fuck Boys, oggi migliore in campo di questo pareggio molto importante contro gli uomini di Paoli, 2-2 il punteggio finale. Allora cosa ci puoi dire di questa partita? Comunque molto tesa fino alla fine. Sì, rischiamo di perdere, potremmo anche vincere, però sarà un buon risultato. Sono molto forti i affressari, quindi c'è stato il pareggio. Senti, un risultato comunque fino alla fine in bilico che tu hai tenuto comunque a galla con le tue parate, soprattutto sul punteggio di 2-1. Quale può essere la parata più bella e quale comunque quella che ti ricordi meglio? Mi ricordo meglio che è stato sul 2-2, il pareggio, il tiro che sta in centro campo. Un bel tiro di continese quindi. Senti, comunque con questo pareggio i Fuck Boys comunque si riprendono, quindi quale può essere, diciamo, a cosa potete puntare come squadra per quest'anno, visto che voi siete all'esordio in Serie C? Puntiamo comunque alla qualificazione, ci proviamo, poi se va bene è bene, però ci abbiamo provato. Va bene, grazie.